Ragazzi benvenuti a Beaumont, siamo sempre nella Francia profonda, in Dordogne, abbiamo fatto alcuni chilometri qui in foreste, bellissime, in mezzo al nulla e finiamo in questa cittadina, bellissima, in questo paesino classico francese, curatissimo e guardate qua, strapieno di gente, incredibile, inglesi, olandesi, belgi. Amici c'è la festa del paese, incredibile, in questa piazzetta bellissima, guardate, una cosa che non ho mai visto, scegliete la vostra carne dal macellaio, c'è un banco di macelleria, e ve la cuociono al barbecue, che è qua. E c'è lo sticco di maiale, ma già cotto, salsicce, guardate, magherese, che spettacolo. Vedete, una festa popolare nel Pericolo, non poteva mancare il canale, guardate questi magherese. Ragazzi, che spettacolo, le patate forestiere, aglio e prezzemolo, bella, questa è una bomba, questa la facciamo vedere in diretta, eh. Nomolette, pomme de terre, patate, aglio e prezzemolo. Eccolo lì, ma grea, pezzemolo. Ed eccolo, come l'è questa pasta. La corsa è una pasta. La padella ricola, l'avete in acciaio. Ed il grasso dopo. È già una cottura della patata, il grasso dopo. Let's eat. Cheese. Ed eccolo, come l'è questa? Annali qui in patate. Da più di francesi. vi potete scegliere i formaggi dal formagero, potete comprarli da frutta e poi ve lo mangiate qua, là, un po' parte la musica e va, ma noi andiamo a cena